Ciao a tutti, in questa lezione inizieremo a vedere come far interagire i nostri script con un database, nel caso specifico con un database MySQL. Se non vi è chiaro cos'è un database e magari non conoscete il linguaggio SQL, vi consiglio prima di dargli un'occhiata e poi seguire queste lezioni. Domanda, dove risiede fisicamente un database? Un database ovviamente può risiedere all'interno della stessa macchina che contiene gli script PHP, come nel nostro caso, ma potrebbe esserci anche una situazione del genere. Prendiamo l'immagine e vediamo che abbiamo un client che effettua una richiesta HTTP ad un server. Questo server ha però all'interno solo il web server Apache e PHP. Per quanto riguarda il database MySQL è presente su un altro server. Lo script PHP all'interno di questo server fa richiesta di connessione a questo altro server per la lettura dei dati contenuti all'interno del database. Quindi in questo server sono presenti i file dell'applicazione, ovvero gli script, e al all'interno di quest'altro server abbiamo i database con i vari dati. Bene, detto questo, la prima cosa che vado a fare è tramite linea di comando andare a creare un database. Io solitamente utilizzo la linea di comando perché la trovo più efficace, quindi mi collego a MySQL. Per creare un database utilizzo la SQL create database php7. mi sposto all'interno del database appena creato e creo una tabella, la chiamiamo user, che avrà un campo id autoincrement, un campo nome, un varchar, un campo username, un campo password, e un campo email. come chiave primaria ovviamente impostiamo il campo id. Bene, vediamo la nostra tabella con i campi id nome, username, password ed email. Torniamo nello script e che cosa dobbiamo fare come prima cosa? Dobbiamo ovviamente collegarci al database. Possiamo utilizzare o un approccio procedurale o un approccio object-oriented. Per quanto riguarda l'approccio object-oriented utilizziamo il PDO in questo modo. quindi creiamo una nuova connessione di tipo PDO, creando un oggetto di classe PDO. Dobbiamo passare tre parametri. Un dsn, l'username necessario ad accedere al database e la password necessaria ad accedere al database. Per quanto riguarda la stringa di asn è così composta, inizia con mysql host uguale localhost in quanto il database è in locale in questo caso e sulla stessa macchina su cui si trova lo script index.php e dbname php7, ovvero il nome del database a cui vogliamo collegarci. Se utilizziamo mysql come database, questa è la stringa da inserire come dsn. Per quanto riguarda l'username, mi collego come root e la password di accesso al database. Bene, faccio un attimo un'impostazione con setAttribute e poi vi spiego che cosa significa. Con il metodo setAttribute e passando come primo parametro pdoAtRMode e come secondo parametro pdoRModeException, stiamo in pratica impostando il nostro oggetto pdoCon di tipo pdo in modo che quando ci siano degli errori vengano lanciate delle eccezioni. Per quanto riguarda le eccezioni le abbiamo studiate nella precedente lezione. Bene, detto questo, salviamo e andiamo ad aggiornare. Bene, vediamo che abbiamo un errore fatale, infatti abbiamo un'eccezione non catturata. Andiamo un attimo nel manuale di php. Andiamo in setAttribute e leggiamo pdoAtRMode, che è proprio quello che ho impostato come attributo. Quando viene settato su RModeException lancia delle eccezioni, ma andiamo a vedere che cosa c'è all'interno. Che tipo di eccezioni vengono lanciate? Vengono lanciate eccezioni di tipo pdoException. Quindi all'interno del nostro script dobbiamo fare un blocco try per la gestione appunto delle eccezioni. Quindi prova a connetterti al database e nel caso in cui viene sollevata un'eccezione, catturala, ma l'eccezione è di tipo pdoException. Facciamo un'eco di $e, quindi dell'oggetto pdoException, getMessage. Salviamo ed aggiorniamo. Bene, vediamo che non abbiamo più l'errore fatale perché noi catturiamo l'eccezione. Il messaggio di errore è questo. Accesso negato per l'utente root at localhost using password yes. Quindi il problema è nella password che è sbagliata. Mettiamo la password corretta. E vediamo che adesso non abbiamo errori, quindi vuol dire che ci siamo correttamente collegati al database. Bene, il primo step è andato a buon fine, quindi per questa lezione mi fermo qui e ci vediamo nella prossima.